Trenitalia Sono giorni di importanti novità per Trenitalia e per tutti i pendoli della nostra regione. Dopo l'avvio del nuovo servizio di Customer Care per i treni regionali, questa mattina nella stazione di Santa Maria Novella, sono stati inaugurati due nuovi treni Jets, dedicati proprio ai pendolari. Oggi consegniamo due treni Jets che si collocano ai massimi livelli in Europa ed arriviamo praticamente a 70 treni consegnati nell'arco del periodo di contratto complessivo. Questo significa che su 140 treni che abbiamo in Toscana siamo arrivati al 50% di flotta rinnovata. Non ci fermeremo qui, andremo avanti. Verso fine anno ne consegneremo altri due Jets e poi seguiranno i ROC, che sono i treni che vengono costruiti proprio qui in Toscana, Pistoia e arriveranno anche per questa regione. Quindi per Trenitalia la priorità è migliorare il trasporto regionale. 300 posti a sedere, maggiore spazio per le biciclette, oltre ad altissimi livelli di comfort e sicurezza. Sono solo alcune delle caratteristiche di questi treni Jets, che offrono una nuova esperienza di viaggio incentrata sui pendolari e rappresentano quella cura del ferro su cui sta investendo la regione toscana con Trenitalia. Solo questi due ulteriori treni sono circa 12 milioni di investimenti che vanno a migliorare il servizio regionale e vanno a vantaggio soprattutto dei pentolari, che sono i passeggeri che usano di più il treno. Questi due treni entreranno prevalentemente in funzione della scinta metropolitana e nella Pistoia Via Reggio. Quindi un'opportunità in più che diamo per poter migliorare la qualità del trasporto pubblico locale. La cura del ferro sta andando avanti. Questo è il diciottesimo Jets che viene consegnato. Da qui alla fine dell'anno arriveranno altri due, quindi sarà completata la fornitura di 20 treni nuovi. Grazie. 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 Grazie.